che tu sia consacrato per sempre con le qualità dell'amore divino della saggezza e del potere che la verità e la guarigione siano il cammino verso la tua resurrezione ed ascensione che la pace eterna dell'onnipotente sia il tuo rifugio che il fuoco violetto dell'amore per la libertà dia forma alle tue creazioni che ti unisca in coscienza all'unità del tutto e come uno che percorriamo il nostro cammino in equilibrio servendo umilmente con compassione che la chiarezza della luce di dio rifletta la bellezza del nostro essere e che siamo benedetti nei giorni e nelle settimane a venire per essere testimoni della trasfigurazione del nostro amato pianeta terra nella sacra stella della libertà così sia amato io sono quello che io sono benedizione dell'amato arcangelo raffaele ai figli della terra ciao a tutti anime bentornati qui su quinta dimensione letture con questo video sui cinque raggi occulti dopo aver terminato appunto tutta la serie dei sette raggi questa era la benedizione con la quale ho voluto aprirvi questo stupendo video di questo stupendo argomento che è proprio dell'arcangelo raffaele una grande benedizione che ho voluto darvi così in apertura allora questo è un video che racchiude cinque raggi occulti è un video che va fatto dopo una diciamo un grande lavoro è un grande lavoro sui sette raggi ecco perché l'ho fatto con calma senza fretta perché per permettervi proprio di integrare tutto quello che è il concetto dei raggi e la loro importanza perché ci tengo che il concetto sia chiaro e che non sia così come una cosa tra le tante da fare ma sì facciamo pure i raggi i raggi sono una cosa seria è veramente la strada del discepolo è veramente una cosa molto importante per la crescita spirituale della persona quindi questo video e lo ascoltate lo integrerete piano piano così come è richiesto anche per gli altri sette ma questi sono raggi appunto poi di cui le informazioni sono venute fuori dopo ancora non abbiamo tutte le informazioni su questi raggi intanto elargisco le informazioni che ci sono a disposizione di tutti quelle che abbiamo nel momento in cui carico il video poi ovviamente se ci sono altre novità anche importanti le faremo voi seguitemi sempre qui su quinta dimensione letture sul sito web eccetera perché gli aggiornamenti che ci sono ve li dirò ovviamente parliamo di metafisica dei sette raggi occulti allora come per gli altri video chi vuole si vada a vedere la playlist dei sette raggi appunto i cinque raggi occulti prenderò le informazioni da questo libro che si chiama i sette raggi e cinque raggi occulti che vi consiglio di leggere che è della collezione metafisica e appunto nell'argomento metafisica con i mendes eccetera so che qualcuno di voi già le ha acquistati ci sono questi due volumi che racchiudono tanti scritti molto molto interessanti per capire cos'è la metafisica come lavorarci eccetera e sono di con i mendes sempre della editrice italica editrice italica come per questo libro da cui prenderò diciamo le spiegazioni vostre per i raggi allora dei sette raggi se ne parla anche sui libri di telos in maniera un pochino diversa soprattutto con la corrispondenza dei giorni dei colori noi prendiamo questa qua quella più ufficiale che è proprio quella della metafisica conosciuta in tutto il mondo e che tutti quanti diciamo la maggior parte delle persone pratica questa dalla domenica a partire con il raggio blu fino ad arrivare a sabato a raggio viola per poi ricominciare noi seguiamo il filone della metafisica anche se trovo molto interessante anche quello che è scritto comunque su telos telos 4 nello specifico da appunto aurelia luis jones allora partiamo vi faccio vedere vi dico appunto le informazioni che abbiamo di questi raggi ve lo spiego e poi facciamo il decreto trovate tutto completo nella sito web vi lascio in sovraimpressione l'indirizzo del sito web dove trovare tutti i decreti completi di questi cinque raggi occulti che ho raccolto per voi tutti in un unico articolo così come qua su youtube invece in un solo video quindi un solo video su youtube un solo articolo sul sito che racchiude tutti i cinque raggi perché ci sono meno informazioni ma è ugualmente importante ricordo che cinque raggi fa parte di un percorso per diciamo persone che già stanno abbastanza avanti quindi non si può affrontare i cinque raggi così uno arriva vede i cinque raggi e fa i cinque raggi c'è un discorso dietro da capire da assimilare nel modo più assoluto perché non si lavora con la velocità con la pochezza di informazioni no a parte non funzionerebbe ci vuole proprio un coinvolgimento energetico un lavoro spirituale personale già avanzato per fare addirittura i cinque raggi occulti non è pensabile che una persona si cimenti a fare i cinque raggi occulti quando non sa neanche cosa sono i sette raggi primari va bene questo è fondamentale quindi leggete comunque le informazioni su questo canale vi spesso vi consiglio i libri da leggere per approfondire gli argomenti che tratto e seguite comunque i video di ogni raggio dove spiego tutti gli esseri che ci sono coinvolti in ogni raggio allora vi leggo proprio i cinque raggi occulti che si manifestano appunto è possibile lavorare con questi raggi lavorarci e poter manifestare le qualità anche di questi raggi occulti quando la personalità proprio dell'essere umano ha raggiunto una grande purificazione ed evoluzione ma questo già ve le ho detto quindi quando le qualità dei sette raggi sono già state instaurate va bene quindi ecco perché vi dicevo importante fare prima comunque un buon lavoro costante proprio con i sette raggi prima allora partiamo quindi abbiamo abbiamo fatto i video dall'uno al set adesso parliamo dell'ottavo raggio che è acqua marina con radiazione azzurro turchese che significa proprio unità con tutta la vita ed è l'ottavo raggio l'anello di congiunzione tra i sette raggi e i cinque raggi occulti infatti sviluppa le virtù riunisce le sviluppa dei sette raggi quindi la fiamma dell'ottavo raggio di colore acqua marina con una radiazione azzurro turchese è retto proprio il reggente l'arcangelo mica e l'arcangelina maya il chokhan e gli elohim non sono ancora noti non sono proprio svelati il grande lettore cosmico di tutti i raggi occulti è proprio il potente cosmo di cui ne parlo negli altri raggi nei sette raggi l'energia si ancora l'energia proprio dell'ottavo raggio nell'ottavo chakra che è posizionato sopra il chakra della corona allora come aromi abbiamo la rosa il nardo geranio e salvia sclarea il suo motto è io sono uno con tutta la vita in ogni luogo come pietre abbiamo acqua marina e turchese blu bene quindi il raggio di congiunzione allora vediamo che altro vi posso dire conosciuto come raggio della grande anima ci dice qua la coscienza dell'ottavo raggio ci porta a guardare oltre i nostri interessi prettamente personali conosciuto come raggio della sintesi allora vi dicevo prima dell'arcangelo mica che si dice sia proprio il figlio dell'arcangelo michele e l'arcangelo mica è una carica all'interno della gerarchia spirituale così come lo sono le cariche di signore del mondo di maha chohan abbiamo un decreto per quanto riguarda l'arcangelo mica che ve lo metto anche nel sito web c'è poi facciamo l'invocazione proprio del raggio va bene quindi prima vi spiego il raggio e subito l'invocazione raggio e invocazione raggio e invocazione allora il decreto dell'arcangelo mica questo potente arcangelo figlio dell'arcangelo michele dice nel nome potere e autorità dell'amata presenza io sono in ognuno di noi e in tutta l'umanità ti invochiamo o potente arcangelo mica vieni ora nel pieno potere e saggezza del tuo amore divino dal profondo dei nostri cuori ti ringraziamo per il tuo servizio al nostro amato pianeta terra e a tutte le sue evoluzioni e ci chiniamo dinanzi alla tua magnifica luce accendi 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 la tua cosmica fiamma dell'unità in attraverso e intorno ai nostri quattro veicoli inferiori ai nostri esseri ai nostri mondi e rimuovi tutto ciò che ci separa l'uno dall'altro caricaci 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 con l'essenza della tua immensa virtù assistici per diventare una forza attiva di unità e armonia per riunire l'umanità con amore pace e fratellanza permettendo che la perfezione del grande piano divino sia manifestata noi accettiamo questo come un fatto già realizzato qui e ora per il più sacro nome di dio io sono grazie padre madre decreto dell'ottavo raggio nel nome della divina presenza io sono in me amato ottavo raggio acqua marina dell'unificazione e dell'intensificazione delle virtù divine ti invoco manifestati adesso penetra e avvolge ognuno dei miei corpi inferiori e superiori e unificali come un solo corpo di luce multidimensionale che essi siano un veicolo puro della divina presenza io sono io adesso il radio a tutti coloro con cui entro in contatto la coscienza di unificazione con la vita io sono uno con ogni parte della vita grazie padre madre nono raggio color magenta con radiazione porpora che è il raggio del bilanciamento ed equilibrio con l'esistenza la combinazione del primo ottavo raggio formano il nono raggio e la fiamma appunto è color magenta gli elohim appunto non sono ancora resi noti e è sempre il potente cosmo il rettore cosmico che è proprio di tutti i raggi è un'energia ancorata al nostro nono chakra che è sopra l'ottavo appunto sopra l'ottavo chakra il motto è attraverso l'armonia divina e la compassione equilibrio e bilancio tutta la mia esistenza e appunto vi ricordo che il numero 9 rappresenta proprio il potere del 3 volte 3 la coscienza cristica nella sua più grande espansione il 9 è anche il numero collegato alla divina presenza io sono è un numero asceso perché scompare in tutte le somme allora 9 appunto rappresenta anche l'ascensione dell'energia kundalini che attraverso la colonna vertebrale arrivando al cervello e dal terzo occhio scende al cuore formando così il divino 9 l'essere umano con tutte le sue potenzialità superiori attive allora la fragranza è non l'ho detta la rosa la bosveglia sacra e il franchincenso buonissimo la pietra è l'agata magenta allora andiamo con il decreto del nono raggio nel nome della divina presenza io sono in me amato nono raggio magenta del bilanciamento dell'equilibrio e dell'armonia divina ti invoco avvolgimi manifesta adesso attraverso di me il ristabilimento dell'equilibrio divino in ogni persona e cosa con cui entrerò in contatto fisicamente etericamente emozionalmente e mentalmente io sono un fulcro di luce divina bilanciando ed equilibrando divinamente tutta la vita ovunque grazie padre madre decimo raggio color dorato solare pace solare e conforto la combinazione del terzo quindi e sesto raggio e formano proprio il decimo raggio color dorato solare allora la sua energia si ancora nel decimo chakra che posizionato proprio sopra il nonno chakra le fragranze sono rosa bosveglia sacra arancio e cedro il motto è attraverso l'amore la pace solare realizzo il conforto e la chiarezza dell'essere la pietra è o la venturina rossa o la pietra del sole numero 10 appunto che simboleggia proprio la perfezione il decimo raggio è il raggio della divinità e presta assistenza per raggiungere un bilanciamento perfetto di amore saggezza e potere per realizzare la divina e sacra luce di dio che noi siamo si ancora nella terra in questo punto proprio nel lago titicaca e più precisamente nell'isola del sole allora è una qualità donata proprio dallo spirito santo cosmico è il conforto vale a dire l'energia del terzo raggio in una coscienza superiore di luce queste sono informazioni informazioni insomma che vi do quelle più complete sono ovviamente nel libro che dovete per forza acquistare o leggere allora decreto del decimo raggio nel nome della divina presenza io sono in me amato decimo raggio dorato solare ti invoco avvolgimi e manifesta adesso attraverso di me la chiarezza dell'essere per donare conforto ad ogni essere con cui entrerò in contatto io sono adesso la pace solare per tutte le persone in questo mondo grazie padre madre undicesimo raggio pesca del proposito divino che è la combinazione del secondo e del quinto raggio che formano appunto l'undicesimo raggio colore pesca la fragranza è una combinazione degli aromi del franchincenso geranio e rosa il motto dell'undicesimo raggio è attraverso l'entusiasmo e l'allegria manifesto adesso il mio proposito divino le pietre associate all'undicesimo raggio sono pietra di luna color pesca quindi la pietra di luna che vira un pochino al pesca a color pesca l'undici è il numero proprio che simboleggia comunque la maestria e porta all'undicesimo raggio il proposito divino sulla terra è il raggio collegato al proposito che i maestri conoscono e servono chi recita e conosce la grande invocazione sa che c'è questa frase nella grande invocazione il proposito che i maestri conoscono e servono questo grande proposito può essere portato avanti solo con entusiasmo poiché la realizzazione del proposito divino sulla terra porterà l'allegria degli altipiani di resistenza di esistenza scusate l'undicesimo raggio è appunto il raggio della maestria nella vita e andiamo con il decreto proprio dell'undicesimo raggio nel nome della divina presenza io sono in me amato undicesimo raggio color pesca ti invoco avvolgimi manifesta adesso attraverso di me il proposito divino fa che io possa trasmetterlo con entusiasmo e allegria a tutte le persone con cui entrerò in contatto affinché anche esse manifestino il loro proposito divino grazie padre madre il dodicesimo raggio color opale della trasfigurazione magnetismo cosmico che è appunto la combinazione del quarto e settimo raggio e formano appunto il dodicesimo il colore è l'opale opale anche per questo raggio come per tutti gli altri raggi il rettore cosmico è il potente cosmo e gli arcangeli rim e johan non sono ancora svelati le virtù principali sono trasfigurazione e magnetismo cosmico l'energia del dodicesimo raggio è ancorata nel dodicesimo sacra posizionato sopra l'undicesimo la fragranza è la quintessenza di tutte le fragranze dei raggi precedenti la quintessenza proprio il suo motto è io sono la trasfigurazione della mia essenza umana in un'essenza cosmica pietra appunto opale ci conduce questo dodicesimo raggio alla trasfigurazione a una vita completamente superiore e a magnetizzare le energie cosmiche per l'evoluzione del tutto la frequenza di questo raggio è la più alta che possiamo realizzare in questa evoluzione umana perché la coscienza del dodicesimo raggio è la trasfigurazione vale a dire trascendere la nostra figura e iniziare a vivere completamente in una coscienza cosmica il dodicesimo raggio è di una coscienza così elevata che ogni cosa che potremmo dire o scrivere su questo raggio equivarrebbe a limitarlo quindi pensate già il solo sapere della sua esistenza è già di per sé un privilegio allora raggio appunto della coscienza e dell'unità trasfigurazione e magnetismo cosmico ecco perché vi dico che ci vuole una bella scorsa già per lavorare con i cinque raggi occulti mi raccomando ascoltatelo più volte fatelo vostro questo video lavorate prima con i sette raggi perché questi sono tosti eh allora decreto del dodicesimo raggio nel nome della divina presenza io sono in me amato dodicesimo raggio opale ti invoco avvolgimi e benedicimi con le tue virtù occulte adesso io sono la trasfigurazione della mia personalità in un essere glorioso di luce ispirando tutti a realizzare e manifestare la loro vera identità di esseri di luce grazie padre e madre allora questi erano i cinque raggi occulti quindi ottavo nono decimo undicesimo dodicesimo vi ricordo che abbiamo poche note tonali non ve l'ho detto all'inizio ma per ogni raggio ci sono qui in questo caso abbiamo solo quella dell'ottavo comunque ve l'ho messa nella playlist del sempre note tonali degli dei cinque raggi occulti man mano che saranno rese note altre note tonali le aggiungerò è sempre in questa qui dei cinque raggi occulti perché le altre sono già complete dal primo al settimo raggio le avete già tutte le note tonali per ogni raggio per questi cinque raggi occulti ovviamente come potete vedere non tutte le cose sono ancora state rese note perciò intanto io le ho messe ve le dico e per quanto riguarda le note tonali ci metterò un attimo ad aggiungere una musica in più alla playlist quindi lì sarà aggiornato di volta in volta quindi esiste ancora e già c'è qualcosa sui cinque raggi andatela vedere metto tutti i link in descrizione allora lavorare con i raggi è molto importante sviluppare le virtù proprio di ogni raggio mi raccomando ascoltatevi i sette raggi che ho già fatto perché è molto molto importante anche il discorso della metafisica che possiamo proprio sviluppare capire fare nostra in un modo molto importante vi ricordo prima di arrivare a lavorare con questi cinque raggi occulti di integrare perfettamente in voi almeno i primi sette raggi occulti se non non fa effetto non sarebbe un lavoro veritiero un lavoro serio come ci è richiesto proprio dai maestri ascesi come vedete un percorso bellissimo questo la crescita spirituale è una cosa fantastica per chi la prende veramente seriamente come dovrebbe è veramente un grosso come si diceva qua proprio sul libro che ci diceva già solo sapere dell'esistenza soprattutto del dodicesimo raggio che è proprio la trasfigurazione altissima già insomma già è tanto no quindi è un lavoro tosto lo so che è un lavoro tosto ma è richiesta e ovviamente non è per tutti è per chi è veramente venuto qua sulla terra con delle grandi qualità e una grandissima missione questi lavori li fa chi li può fare chi li può fare gli altri ci possono arrivare poi nel tempo tanti non ci arriveranno addirittura mai ma non è per questa vita diciamo no sapete che siamo in un periodo comunque ascensionale dove ci è richiesto anche questo lavoro e questo è un lavoro che vi aiuta nell'ascensione non pensate che sia una cosa così che è più importante un lavoro piuttosto che un altro no questo è una cosa anzi che accelera moltissimo la vostra evoluzione e la vostra ascensione quindi vi consiglio di lavorare con i raggi sempre tutti i giorni allora anime di quinta dimensione letture grazie ho terminato la diciamo la saga se vogliamo chiamarla così dei raggi con i video dei sette raggi e questo video dei cinque raggi occulti ascoltatela più che potete sul mio sito web trovate tutto quanto scritto e spiegato quindi anche sul sito web c'è un bel lavoro da fare chi vuole farlo va bene io per il momento vi saluto vi ringrazio cercatevi altri video di crescita spirituale su questo canale iscrivetevi pure al canale e leggete la descrizione del video dove vi do le informazioni sia sul video che state guardando ma anche per approfondire come i discorsi di crescita personale spirituale con le consulenze eccetera eccetera e il modo per contattarmi vi mando grandissimo abbraccio e vi aspetto presto qui su quinta dimensione letture con altri contenuti di crescita per voi ciao a tutti e grazie